Ciao a tutti, la vostra host, benvenuti a questo video. In questo video faremo l'estrazione dei due vincitori per il giveaway dei 1000 iscritti. Rivedendo il video, visto che forse non sono stato molto chiaro per quanto riguarda i premi, ma non vi preoccupate perché nessuno ci andrà a perdere, anzi al massimo. Avrete qualcosa in più rispetto a quello che era stato preventivato prima. Allora, ripeto giusto un po' meglio, il primo vincitore vincerà tre premi. Mi sono basato sul costo dei premi, quindi ho fatto un po' un calcolo. Il primo vincitore vincerà questo set di Star Wars e due bustine a scelta, a libera scelta tra queste bustine. Se vi faccio vedere, sono tre bustine serie 11, quindi uno, due, tre. Scusate se parlo come se aveste quattro anni, ma voglio essere chiaro. Anche una bustina serie 14 di Halloween, serie 15 e una bustina di Lego Simpson. Allora, il secondo vincitore vincerà tutte le bustine restanti. Quindi facciamo un esempio. Se il vincitore dovesse scegliere questa e questa, il secondo vincitore vincerebbe tutte queste. Insomma, adesso, che è di più di quanto avevo preventivato all'inizio, ma non mi dispiace perché per me è l'importante che voi siate soddisfatti. Quindi, adesso, quello che devo semplicemente fare è incollare la lista qui. Ok. Quindi, come vedete, questi sono tutti i 59 partecipanti. e adesso devo semplicemente cliccare qui e, in maniera casuale, mi usciranno in alto i primi due vincitori. Quindi, complimentazioni e congratulamenti a... 3, 2, 1... Oh, eccoli qua. Questo è un utente che si è aggiunto all'ultimo. I vincitori sono Davide Cascione e Fatlac. Complimenti. Quindi, riassumendo, il primo vincitore, Davide Cascione, vince questo set e può scegliere, come anche no scegliere, due bustine a scelta tra queste, poi le potrei vedere bene all'inizio del video. Ovviamente deve darmi anche il suo indirizzo, poi ovviamente le spese saranno tutte a mio carico. Fatlac, invece, deve aspettare che Davide Cascione mi dica quali bustine vuole, e il resto li avrà lui. Mi occuperò io, ovviamente, di spedire, di comunicarglielo. Bene, ragazzi, anche questo video finisce qui. Faccio ancora complimenti ai vincitori. Vi do appuntamento ad un prossimo video. Magari il prossimo giveaway sarà i 1.500, 2.000 iscritti tra 20 anni, quando li raggiungerò. Comunque vi do appuntamento al prossimo video. Altri video creativi in questi giorni. uscirà il work in progress, finalmente, il terzo e ultimo work in progress di Paperinic. Vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi, condividere, commentare, eccetera, eccetera, tutta quella roba. Cliccate anche sulla pagina Facebook del canale. E questo è tutto, ragazzi. Alla prossima. Bye, bye.